Getti d'acqua lanciati contro i migranti al confine con la Bielorussia. Un messaggio registrato aveva attraversato la frontiera. Se supererete il confine, potrebbe essere usata contro la forza. La polizia polacca, al valico di Kuznika-Bruzgi, cerca di spegnere la polveriera che dall'8 novembre soffia sulle migliaia di migranti accampati e diventati al centro di una contesa per guadagnare peso diplomatico contro le sanzioni imposte dall'UE al regime bielorusso che respinge le accuse e spinge i migranti alle frontiere. Sono il padre di Taman, stiamo vivendo nella giungla da otto giorni, fa così freddo, veniamo dall'Iraq e sono qui perché voglio una vita migliore per la mia famiglia e che lui, Taman, possa vivere come un bambino normale. Ma per la normalità non c'è posto, tra tende, polizia schierata, basse temperature, condizioni precari, gli scontri e oggi anche lacrimogeni. Ci sono persone che lanciano pietre, altri granate e le granate non le hanno portate con loro dall'Iraq o dalla Siria, accusa il capo della polizia polacca, Mayutscharka. Un passo la Bielorussia sembra averlo concesso annunciando di accogliere i migranti in un centro logistico a un chilometro e mezzo di distanza con materassi e duemila coperte, precise l'agenzia TASS. D'altra parte la Nato osserva attentamente anche un altro confine, quello tra Russia e Ucraina. Circa 170 iracheni hanno intanto aderito al piano di rientro volontario organizzato dal governo di Baghdad, ma ne restano ancora 500. Putin e Lukashenko hanno nuovamente discusso telefonicamente della crisi. Il ministro della difesa, Lorenzo Guerini, a margine del Consiglio di Difesa europea, ha ribadito la posizione dell'Unione di sostenere la condanna di quanto compiuto dalla Bielorussia. Costruire muri antimigranti è un ritorno al passato, come pur i conflitti in varie aree del mondo, i nazionalismi e i populismi tornati a riaffacciarsi in questi ultimi decenni. Lo scrive in un messaggio per i 40 anni di attività del centro a stalli, da sempre in prima linea per i rifugiati, Papa Francesco, nel quale ammette che troppo spesso ci si scontra con un deserto di umanità. Nel testo il pontefice si sofferma su quanto può essere spreggevole la guerra che costringe a vivere senza libertà e senza diritti, con la terra che si ineridisce e l'acqua che si inquina e con l'unica certezza di doversi mettere in cammino in cerca di un luogo sicuro dove mettere a frutto talenti ed aspirazioni. Anche se l'indifferenza si è fatta globale, scrive ancora Bergoglio, ci sono segni di speranza che permettono di camminare insieme come un popolo nuovo verso noi sempre più grande. Per il pontefice sono i rifugiati, segno e volto di questa speranza, uomini e donne diversissimi tra loro, ma uniti dal desiderio di un mondo più giusto in cui dignità e diritti siano veramente di tutti.